Siamo al termine del derby con Ravenna dove a Reggio Emilia si è conquistato il tie-break. Siamo qui con lo schiacciatore Romolo Mariano. Romolo, oggi grande prestazione da parte di tutta la squadra. Abbiamo visto un bel gruppo unito che non giocava solo per la salvezza ma per il proprio orgoglio. Esatto, hai detto bene. Abbiamo giocato per tanti obiettivi. Noi ci teniamo tantissimo a salvarci. Volevamo dimostrare che c'eravamo e ci siamo. Ci siamo. Dobbiamo rimanere umili. Abbiamo vinto una bellissima battaglia. Rimangono ancora due battaglie e poi il resto lo vediamo alla fine. Sono straorgoglioso dei miei compagni, di tutti chi è entrato. Ci ha messo cuore, ha messo tanta tecnica e tanta voglia di portare a casa questo risultato contro una formazione giovane ma molto forte. Siamo qui con Filippo Sant'Ambrogio. Filippo, oggi hai dato prova di una grande prestazione gestendo il gioco in un modo molto positivo. Sei soddisfatto della tua prestazione e di quella complessiva della squadra? Sì, senza dubbio. Venivamo da un periodo molto complicato che ci portavamo dietro dal 26 dicembre. Credo che i frutti... Stiamo cogliendo i frutti di quello che abbiamo seminato in questo periodo. Non posso altro che essere soddisfatto della mia prestazione, anche se ovviamente entrare da fuori è sempre complicato. e un complimento anche a tutta la squadra per essere stati bravi a reagire dopo aver perso quel secondo set con un po' di rammarico. Però complimenti a tutti.